Sì, cercavo la flasca che mi era scaduta, la flasca e quell'altra, perché mi dava quelle mie, per l'allezur. La maniera. C'è la pelle. Prendi quello che fa, fanno di vivere. C'è la un po' di più. si 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 sempre uno alla volta condividere questo qua devi metterti sulla linea blu praticamente per aiutare altra persona ok adesso tutti tutti vicini perché fa un po' di danno e dobbiamo togliergli lo scudo adesso c'è da fare il giochino con gli anemini allora vediamo il primo dove lo fa il primo lo fa qua al pallino venite seguite il tank e poi corriamo verso il verde non prendetelo due volte non lo prendete con lente prendi Roberto è già finito si il normale è un po' più lento allora ecco qua mi sta parlando di aggiornamento non chiede più prendi Roberto ok siamo l'alba un'alba un'alba Un po' più indietro 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 Vedi che servono le poze della velocità Un po' più indietro Un po' più indietro Un po' più indietro Il ide d'arte Stefan Buon po' più indietro seguire da via si vengono le anelli viola viola prima posto tutto posto andiamo verso il giallo no fallo vabbè mazzate boss state qua dovremmo essere abbastanza salvi posti katsi eri vato stas ma dei maate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.